Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qual è lo stato dell'arte oggi? Purtroppo, se noi pensiamo a questi numeri che ho appena citati, pensiamo ai numeri anche odierni, il salto è notevole, insomma, quindi magari dopo nelle varie relazioni si poterà anche bene il perché. Penso che la platea, la platea di quanto le persone consapevoli interessate e conosciutori anche della materia, del stato dell'arte, vede da poco superato il 1000 etari di coltivazione nel nostro Veneto, abbiamo 114 etari, 25 aziende che producono, producono, diciamo, questa, coltivano canapa. Profili importanti su cui una ripresa della produzione, insomma, sono da tenere in considerazione, chiaramente il profilo agronomico ma anche il profilo economico, tant'è che all'ultimo forum dell'agroalimentare, Aramos, che chiamiamo coltivatori diretti, lo muove a Giannoppio, proprio sulla canapa c'è stata un'attenzione particolare, proprio questo si è discusso anche degli usi pluribili che questa cultura può consentire e anche del business, poche parole, che può fornire e favorire agli aziende agricole. Ecco, questo è, diciamo, con sorpresa anche dei media presenti che hanno dato notizia, diciamo, di questo avvenimento, di questa attenzione delle coltivatori diretti, si è andati molto oltre, quindi anche per la continuazione, anche per la cosa che, peraltro, è circostritta ed è regolamentata la precisa normativa, per quanto riguarda la canapa c'è il uso terapeutico, per cui, ecco, diciamo che la tensione è molto, è molto alta e questo convegno sicuramente indicherà e ci fornerà anche una serie di indicazioni che possono, da questo punto di vista, indicare delle prospettive molto concrete. Inizierei dicendo che in generale è difficile parlare di canapa, sembra strano? Ma, quindi, do tre ragioni per cui è difficile parlare di canapa. La prima che è un argomento polarizzato, polarizzato vuol dire che è un argomento che divide l'opinione pubblica, un po' di divorcio, rapporto, c'è chi è favorevole, chi è contrario. Questa polarizzazione non è soltanto a livello individuale, ma anche a livello collettivo. La canapa è un argomento politicizzato. Ci sono dei gruppi di persone che, per partito preso, sono pro-canapa o anti-canapa, anche se non ci sono mai interessati della canapa. Ma penso che in generale è una ragione più difficile, per cui è difficile parlare di canapa, perché la canapa è un argomento che viene derivato. Cioè, se ne parla, se ne scrive troppo. Però, purtroppo, se ne parla, se ne scrive troppo di persone che non hanno alcune esperienze dirette nel campo, cioè, più delle volte vanno su internet, ricordiamoci che internet è fondamentalmente analfabeta, il ranking del sito non è in base all'attentibilità, in base alla popolarità. La settimana scorsa ho fatto andare su Google per scrivere cannabis attiva, il primo riferimento che mi è venuto a fare riferimento a questa rivista, che penso sia una rivista ironica, sulla stampa, si chiama La Zanata. Ah, sì. Grazie. Ho visto questo riferimento di questa rivista che penso sia sentire, che è la cura tendibilità, parla da sola. Diciamo, due parole di introduzione sulla canapa, che non è una pianta nostrana, è una pianta di origine asiatica, all'Asia Centrale, quello che lo dice il Kazarkistan, è una pianta che è andata, è cresciuta, nata, che fa ripasso con l'agricoltura, una delle mie piante che sono state coltivate, questo perché è una pianta supermercato, che non serve per molte cose. La canapa, che è una pianta di cui normalmente si parla singolare, se dovete parlare plurale, perché come esistono tanti peperoncini, così di forma diversa e anche di proprietà diverse, ci sono quelli piccanti e quelli non piccanti, così esistono tante forme di canapa, ma apologicamente diverse, alcuni sono psicotrope, altri no. Ricordiamo che le proprietà psicotrope della canapa sono dovute soltanto a uno dei più di 150 cannabinoidi che fa. Io cercherò di parlare, anche per i miei fammi di competenza, soltanto delle proprietà nutrizionali, meglio del potenziale nutrizionale e del potenziale salutistico e farmaceutico della canapa. Prima di fare questo, è opportuno introdurre quello che è l'albero genealogico dei cannabinoidi, e parlare di canapa senza parlare di cannabinoidi è un po' come parlare di Mozart senza città, la musica, oppure parlare di risparanti senza parlare di cibo. E diciamo che il papà di tutti i cannabinoidi è noto con l'appreviazione del cibigino. Il cibigino si sposa due volte, ha due figli, due mogli diverse, perché sono due sistemi enzimatici diversi, il primo figlio è il cibigino e poi il fratellasto che è il THC. Ne ha tanti di figli, perché sono oltre 150 i cannabinoidi no. Poi diciamo che quelli più importanti, quelli che generalmente si trovano nella canapa, sono questi due fratellastri, i cibigino e il THC. I cibigini non è il psicotropo, anzi è anche il psicotropo, mentre invece il THC del psicotropo. Una prima cosa che dobbiamo dire è che le proprietà psicotropa del THC sono molto potenti, tanto per dare la idea, sono circa un decimo THC inalato a proprietà psicotrofe, a un decimo delle proprietà psicotrofe dell'eroina iniettata in doveva. Diciamo che la dose psicotropa dell'eroina in doveva è sui 80 mg, la dose psicotropa del THC è tra i 3 e i 5 mg. Esistono fondamentalmente quattro tipi di canapa, la fibra alimentare, medicinale e ricreazionale, che sono caratterizzate da dei profili cannabinoidi molto diversi tra di loro. La canapa alimentare non ha cannabinoidi, quindi deriva dai semi, la canapa da fibra ha più THC che THC, quella ricreazionale ha più THC di CDB, mentre invece quella medicinale ha rapporti diversi, ma contiene sia THC che THC di CDB. Allora, cominciamo con la canapa alimentare. La canapa è l'unico, i semi di canapa sono l'unico alimento completo che si conosce, cioè che contiene tutti gli aminoacidi essenziali, tutti gli acidi grassi essenziali, dell'utilevitatina ecologica. Bunda avesse sei anni nutriendosi solo con semi di canapa, non so se sia vero dal punto di vista storico, dal punto di vista virgine di coloro è. La caratteristica più importante per semi di canapa è il rapporto tra gli acidi essenziali insaturi. Esistono due classi di acidi essenziali, cioè gli acidi grassi che noi non possiamo farci, che dobbiamo assumere dall'ambiente, che sono noti come omagatari e omagatari. Gli acidi grassi, in grassi in generale, hanno delle proprietà nutrizionali fondamentalmente diverse dalle proteine e dalle zucre. Cioè le proteine sono proteine, punte basta, gli zuccheri sono zuccheri, punte basta. L'insulina, qualsiasi cosa mangi, che io prenda le proteine, non so di origine animale o digitale, la struttura delle suite è sempre la stessa, la struttura delle glicogeni è sempre la stessa e così via. Invece per gli individui questo è molto diverso. E vi do un esempio, diciamo, di proprietà funzionali. Sia che io mangi più omega 3 o omega 6, disimamente non me ne accoro. Però quest'idea di radicariazza, vicino a un caso che può sembrare abbastanza strano, che fa riferimento a uno dei tanti esperimenti strani fatti nella seconda guerra mondiale. Cioè l'induzione della visione infrarossa per via di identica. Cioè alcuni animali vedono l'infrarossa, cosa vuol dire? Che di notte è importante vedere l'infrarossa in quella. perché di notte, io, dato che mettiamo calore, vedo delle persone, vedo le case, vedo una cosa di questo genere. Allora, durante la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno preso un centinaio di marinai, li hanno ottenuti per parecchi vici, a una verità in cui veniva discutito rigorosamente tutti i carotenoidi. I carotenoidi sono precursori del nostro pigmento visivo. Il pigmento visivo degli animali che vedono l'infrarossa è un po' di origami morì. Per cui hanno nutrito per dei metri questi marinai con questi essenzialmente prodotti indici che contenevano questa versione del pigmento visivo che vogliono i gammatici. Ecco, poi tutto è cessato perché hanno aumentato i locelli all'infrarossa, però proprio l'anno scorso un gruppo americano ha provato a rifare questo esperimento ed effettivamente, escludendo rigorosamente i carotenoidi della dieta e alimentando le persone con questi lipidi di origine marina, hanno poi registrato delle risposte retiniche all'infrarossa. Adesso non so se vedessero proprio così. Questo vi dà un'idea di come noi abbiamo una composizione chimica diversa a seconda dei grassi che mangiamo. La differenza fondamentale tra gli acidi grassi l'omega 3 e l'omega 6 è quella che dopo che tutti e due sono stati allungati di un grado di carbonio dove sono stati messi dei doppi legami vengono trasformati nelle prostaglandine. Però le prostaglandine che derivano dagli omega 6 sono prostaglandine infiammatorie quelle derivano dagli omega 3 sono anti-infiammatorie. Per cui se andiamo a vedere cosa si mangiava una volta una volta la figliele alimentare che andava dal prato, dal prato a un po' di dolce coltivavo delle piante oppure partecipa a scolavano degli animali. Gli omega 3 sono gli acidi grassi più diffusi in natura, tutte le piante fotosintete che i tessuti verdi contengono omega 3 per cui sembra paradossale che oggi abbiamo un po' più omega 3. Una volta tutto derivava dal prato per cui il rapporto nella dieta umana con l'omega 3 o omega 6 era di 6 a 4 per gli omega 6. Oggi invece è un rapporto in cui tutto deriva praticamente dai semi di soia e dai semi di mais che invece sono ridi di omega 6 il rapporto è diventato 15-20 a 1 ma addirittura negli Stati Uniti di 40 a 1. Questo cosa vuol dire? Che la dieta è infiammatoria. Cioè la dieta, quella che viene chiamata la dieta occidentale fondamentalmente infiammatoria perché ci porta ad avere nel nostro organismo più acidi omega 6 rispetto a omega 3. Allora la carica è molto importante perché contiene quello che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è il rapporto ideale fra acidi grassi omega 3 e omega 6 cioè circa 3 a 1. La canapa è diversamente da altre fonti di omega 3 che queste sono sbilanciate da troppo omega 3 come ad esempio un olio di vino anche un sapore gradivo e da questo successo sono i prodotti alimentari. Adesso due parole sulla canapa preghi di introduzione sulla canapa medicinale. La canapa medicinale arriva in Europa nella seconda metà dell'ottrice dentro di Alimidia. È sconosciuta in Europa la canapa coltivata in Europa è la canapa da fibra la canapa da fibra sa che è alta viene utilizzata dall'artroscopio per cui esiste scarsa documentazione di utilizzo medicinale della canapa in Europa. Però l'inglese manda in Libia in India la canapa è usata come pianta medicinale per cui introducono l'utilizzo in Europa. Ora vediamo nei paesi di origine essenzialmente la Cina poi dalla Cina si è diffuso a Libia per cosa viene usata la canapa soprattutto in vista medicinale. Viene usata innanzitutto in dermatologia per la lebra e questo vedremo che uno dei recettori dei cannabinoidi è essenziale per la salute della pelle senza il Cd2 la pelle degrada si degrada la dermatite atopica tutte queste malattie sono malattie da distruzione del sistema del cannabinoide. Viene usata poi per l'infiammazione viene usata in astetrice per i dolori da parto di cui esistono delle precise documentazioni archeologiche anche in Medio Oriente viene usata come antimedico per la bronchite e l'asma. Adesso dicevo che non è chiaro se gli utilizzi medicinali in una canapa ci siano anche nella cività mediterranea secondo alcune a Bibbia ci sarebbero più di 50 citazioni ci sono delle incertezze semantiche però quello che è chiaro della canapa viene usata è questo rumore è un ritrovamento archeologico in Palestina nel primo secolo d'opo Cristo una ragazza si pensa sui 17 anni che è morta di parto e vicino alla pompa hanno trovato una pietra con tanti residui di pietra che erano canapa cioè come anestetico cosa facevano scaldavano una pietra che buttavano della canapa sopra e poi le persone inalavano le un po' adesso vediamo quali sono i principali medici della canapa prima del primizionismo dunque innanzitutto la canapa è una pianta medicinale molto diffusa il paziente più famoso è la regina vittoria talladismo non rita è stata curata tutta la sua vita per il patismo non rita con la canapa poi vediamo anche il ruolo che ha William Osler è stato il medico clinico più famoso di tutti i tempi ha scritto il trattato medico fondamentale della medicina clinica e Osler considerava la canapa questa essenzialmente canapa diciamo la vecchia marijuana canapa THC e CBD prevale THC come il farmaco di elezione di trattamento e la prevenzione dell'epidessia poi arriva il promizionismo notiamo che il promizionismo viene approvato negli Stati Uniti contro l'opinione della della classe medica e la cosa strana è che gli utilizzi moderni della canapa della medicina derivano tutti da un deciso che potremmo chiamare farmacologia diversa cioè normalmente i farmaci nascono nel laboratorio un chimico fa la sintesi qualcuno lo prova su una proteina su un canario ionico poi si passa a una cellula dalla cellula al modello animale poi viene e si va all'uomo invece gli utilizzi modelli della canapa nascono con l'uso nedotico normalmente molte volte si dice una cosa nedotica prima di della tazza però vediamo il primo utilizzo medico ufficiale nausea e voluto da per una cosa nedotica il figlio di un medico di alba al cancro fa la chemioterapia e dice papà guarda quando io fu un'anima lo spumento il papà è una persona importante per cui nascono gli studi clinici glaucoma il glaucoma non è assolutamente un'indicazione della canapa anche se paradossalmente nel senso che abbiamo dei farmaci che vanno meglio esistono alcuni tipi di glaucoma che rispondono solo alla canapa alcune soltanti psicoteri altri abbiamo come tutina ad esempio il dipartimento di polizia di los angeles commissiona all'ospedale oftalmico uno studio sugli effetti della marijuana sulla pupilla la marijuana non fa niente sulla pupilla rossa gli occhi però scoprono che abbassa la rossa l'oculare poi abbiamo la spasticità di sclerosi multipla anche quella scoperta per passaparola cioè alcuni malati di sclerosi multipla stando meglio quando fanno la marijuana la diceria per così dire si diffonde comincia gli studi clinici e poi si arriva al farmaco abbiamo tre farmaci ufficiali prescrittibili a base di cannabinoidi sono un sacro che è una combinazione di cdb di due femotivi una psicotra per l'altra una psicotra per la sclerosi multipla e poi abbiamo due farmaci di uteridio ospedalino che sono basate invece per la nausea da chemoterapia oppure la capessia di malati terminali d'accai o diciamo che i cannabinoidi migliori devono nomare un grande successo e questo perché la compliance è molto bassa nel senso che il tbhc è una sostanza ansioritica da ansia e psicotapa immaginate un malato terminali l'ultima cosa che vuol fare è già assioso di un'ansia per cui sono state fondamentalmente un flow sia il cannabino o il cannabinoide mentre il sacri che è una mascella di cannabinoide invece ha un successo commerciale e nella classifica di cannagione adesso c'è un film di Gugliel che si chiama Il Dormiglione capita una cosa strana vediamo cosa è successo nella campo la trama del Dormiglione è uno di così il protagonista viene invernato viene svegliato dopo 200 anni va da in donna e vede questo il numero che ho gatto di cannabinoide che abbiamo venduto e poi trova il pubblico in giro e gli dice fumate perché fumare fa bene mangiate tanti grassi che fa bene alla salute cioè le indicazioni salutisiche sono completamente cambiate lo stesso capita per la cannaba se vediamo fino a una decina una ventina di anni fa diciamo la cannaba veniva demonizzata c'è un film di John Wayne di Marijuana la signora e così via cioè tutte le cose dubbi che potevano dire si veniva in mente della Marijuana oggi invece siamo al polo posto cioè tutto quello che sembra che Marijuana risolva e la cannaba risolva tutti i mali dell'umanità cosa ovviamente che purtroppo non è vera però diciamo adesso due sono le indicazioni più importanti che stanno emergendo che nascono da osservazione alle volte che la prima l'epilessia l'epilessia nasce per il caso molto triste di questa bambina decolorata questa si rinascita ha una malattia molto grave una polissia molto grave incurabile 1200 crisi epilettiche almeno una ogni due allora quindi incapace che non sono tristi dormire immaginate la qualità di vita sua anche dei genitori i genitori leggono che il cdd dei modelli animali ha un'azione benedica contro l'epilessia per cui nella carpa da fibra che si fanno arrivare dalla carpa e perché in america per cui la carpa da fibra fanno lo mettono nell'olio quello che li ha chiamato l'olio di charlotte cominciano a darglielo per bocca e avviene un miracolo questa bambina attualmente ha due crisi epilettiche al mese e oltre a tutto anche notturne allora la notizia si diffonde e comincia una scolimentazione clinica ufficiale funcini di pulito puro la settimana scorsa sono stati dati anticipati dati all'interno cioè la metà dello studio e praticamente hanno preso circa 150 malattie epilettiche incurabili che rispondevano molto male i farmaci e diciamo che la canapa ha avuto un'azione importante cioè il numero delle crisi epilettiche è diminuito nella città però allo stesso tempo qui è purtroppo difficile dosare i cannabinoidi in alcune persone i cannabinoidi aggravano le pulessie per cui non è chiaro nelle pulessie infantili generalmente c'è un effetto benefico però in alcune specie adulte di cannabinoidi che ha la patologia poi un altro caso molto discusso è questa che Stefania questa è una ragazza qui di 30 anni che mi ha diagnosticato quando sto partendo la paola si è un uomo 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 ecco ancora dognuno si è un uomo allora diciamo questa Stefania ha 30 anni viene diagnosticato un tumore assieme di fase 4 di coaglio è a pochi mesi di vita questo è un caso molto strano perché lei subisce doppia l'astectomia l'archioterapia la pionaterapia vive ancora 8 anni ha delle ricadute e così via però 8 anni sono quando queste due di malicaglioni ormai a poco di fare allora lei non si dà da vita e comincia a sperimentare prende la 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 macina prende le farmaci di un articolio monoclonario prende molti farmaci però prende anche l'olio di Simpson che è un uomo a base di THC ecco è viva è stata giudicata guarita ma come può essere guarito un paziente oncologico con un tumore di corrente in questo caso è molto difficile mentre nella bambina Charlotte prendeva soltanto l'olio di carica questa prende anche la raccoglina prende delle anticorpi monoclonali prende una miriade di farmaci per cui non è chiaro un uomo dell'olio di Simpson nel miglioramento di questa ragazza vediamo quali sono gli studi clinici attualmente in corso sul CBD negli Stati Uniti sono il CBD ha la dignità a parte il cannabinoid THC con l'ospedaliero che abbiamo visto prima ci sono due studi clinici fornare il BNC e poi il BNC la scuola multiforme poi vediamo un'arca e questo posso saltare per più di rilevanza accademica l'importanza della canofra per la scienza che ci ha fatto scoprire il sistema indocannabinoide adesso vediamo la canata medicinale e la canata salutistica quali sono le differenze la canata medicinale basata su THC e CBD ha delle indicazioni ben precise di patologie acute specifiche la saccharose multipla la mitipidipolessia e il supporto in chiaro oncologico la via di somministrazione è sovente non migliorare subiguale oppure in altra esiste forse un enorme canata da esplorare che è quello della canata salutistica la canata salutistica è basata su miscele di cannabinoidi e anche costituenti della canata e serve per indicazioni croniche croniche è quello che viene basata alla modulazione del sistema endocannabinoide ci sono molte malattie della patologia non ben di forse e tutto quello che si dice è una malattia psicosomatica la medicina non sta trattata dicendo guarda colpa sua lei è una malattia psicosomatica oggigiorno si tende a considerare tutte queste catologie psicosomatiche come delle discussioni da sistema di cannabinoide quindi abbiamo quindi abbiamo il cranio la fibromialgia il corosbastro il neopasco ecco queste sono delle indicazioni molto importanti mentre la canata la canata medicinale ha delle indicazioni ben specifiche per delle acuzie e oltretutto è molto difficile da usare vedremo anche il cdd nella prossima ricordia è difficile da usare dal punto di vista farmacologico invece questi sono degli utilizzi cronici che penso saranno studiati ampiamente nei prossimi anni anche perché sono delle condizioni che sono difficili da trattare dal punto di vista farmacologico adesso dicevo la canata salutistica mentre la canata medicinale è una sonata solistica cioè o il son il cdc o il cdp quindi invece la canata salutistica è una sinfonia non è una sonata solistica non è un piano di uno ma è una sinfonia cioè è basata su una miri di composti su un buco di composti dicevo una delle difficoltà nell'utilizzo medico del cdp è che il cdp non ha delle relazioni chiare fra concentrazione e effetto cioè pensiamo ad esempio il leno più i do di leno più la sostanza è tosta invece nel cdp capita una cosa strana cioè che all'aumentare della dose per un certo periodo aumenta l'effetto e poi se aumentano ancora le dose diminuisce cioè ha una curva campana questa è una cosa difficilissima da trattare dal punto di vista farmacologico vediamo invece che gli estratti contengono insieme al cdp anche altri composti hanno una relazione tra dose e di effetto cioè se io raddoppio una dose raddoppio un effetto prossimo e così via cosa che invece non esiste per il cdp che sarà un farmaco estremamente difficile da dosare e probabilmente anche quegli aggravamenti che si sono verificati in azioni epilettrici trattati con cdp magari hanno relazione al fatto al dosaggio al dosaggio probabilmente sarà difficile dovrà essere fatto su scala di riguardo molto precisa sì un minuto ecco un ultimo composto intersato è un composto volante che c'è la calda beta-cariofibrenica il beta-cariofibrenica non è inima da tanto che vi sta chiedendo io mi sono messo a studiare una cosa stravissima un idrocarburo idrocarburo sono composti non attaccate in cilano difficoltà a casa alle proteine in generale reagire con la proteina però è un agonista selettivo del recettore di tipo 2 del cannabinoide quello che c'è nel sistema immunitario è quello che c'è sulla pelle questo è un composto interessante vediamo che i cani distratti per riconoscere la canapa riconoscono l'odore del cariofibreniossido quale non è riconosciuto un composto in odore però il composto che i cani riconoscono per la canapa è molto difficile di parlare di tossicità della canapa quindi due parole sono la canapa di reazionale la canapa di reazionale è molto diversa dalla canapa dell'Ips della marioana di una volta e vi faccio un esempio il caffè il caffè ha una concentrazione di caffeina molto diversa da quella del THC nella marioana dell'Ips di gusto di una volta l'assolimento della caffeina dal caffè viene ritardato dai termini per cui se io prendo la stessa quantità di caffeina supponiamo una compressa da 100mg di caffeina oppure mi bevo due bicchieri di caffè espresso che sono appena 100mg di caffeina l'effetto farmacologico è molto diverso avviene molto evidentemente con il caffè è molto inferiore la stessa cosa che la marioana una volta c'è la CBD di antabolizzazione del THC gli impi smontavolta se ne accorgeva non faceva niente qualcuno trattava una colimorba di andare a CBD mi ha fatto un po' di THC e così via e questo non è questo supponiamo di avere un caffè con una colpa di cammini e quindi il caffè rimane praticamente un vericolo per l'assolimento della caffeina è aumentato di 10 volte la quantità della caffeina la marioana di adesso rispetto alla marioana di una volta è come questo caffè uno dice ma lo chiamerei ancora caffè discuterebbe la tossicità del caffè facendo riferimento a quel caffè tra cui sono due cose completamente diverse abbiamo poi la fiaga dei cannabinoidi di sintesi questa è proprio una cosa di coloro troppo sono composti molto facile di essenzializzare uno sericano cantiva sono fondamentalmente diversi dai cannabinoidi i cannabinoidi sono degli agenti di amici sono degli agonisti parziali non data mai la risposta completa questi sono degli agonisti puri toccano anche altri sistemi biologici professore devo togliere la parola grazie mille la ringrazio volevo terminare solo per dire che sulla canna conosciamo ancora molto poco e termina con questa citazione di Newton Newton è stata una delle persone più intelligenti che si hanno mai vissuto sulla terra diceva non so che cosa penseranno di me i poster però io mi sento come un bambino che sulla spiaggia del mare si diverte perché trova qualche conchina più bella degli altri oppure qualche sassonno lucido mentre il grande ocena della verità sta davanti a lui ancora da scoprire la stessa cosa per la carpa grazie per l'attenzione scusate sì io vi parlerò un pochino sulla linea di questo progetto che sto accortinare il progetto della carpa come cultura da biodaffineria biodaffineria è una parola che viene usata molto di frequente ultimamente per riferirsi alle culture di biomassa diciamo alla fiorconomia e praticamente è una parola che come indica l'assonanza con quella di raffinezza vuole utilizzare la biomassa in sostituzione del petrolio delle fonti comunque non rinnovabili per fare una serie di prodotti in parte prodotti energetici ma soprattutto prodotti legati alla chimica e a quant'altro serva per costruire la nostra la nostra economia e quindi in questa presentazione farò vedere un po' di diciamo di esempi e come riuscire a utilizzare la canapa per all'interno la biorefineria nel futuro la mia convinzione è fatto che la canapa già di per se stessa come pianta sia una biorefineria tipicamente la biorefineria come è interpretata oggi anche dalla politica europea parte da una biomassa abbastanza indifferenziata dal punto di vista possono essere scarpe ricini quindi la paglia gli stocchi del mais oppure culture delicate ma culture dedicate non cellulosiche panico miscanto arrundo o anche culture arbore che poi vengono frascanate un po' come si fa col petrolio per poi ottenere delle materie prime dei building blocks come vengono chiamati con i quali puoi costruire degli altri prodotti degli altri materiali la canna che invece già deve a se stessa ha questa capacità diciamo di avere in se stessa di esempio le fibre anche gli olif oppure abbiamo visto grazie tra l'esauriente di presentazione del professore pendino anche tutta una serie di composti chimici che possono avere un grande interesse anche da un culturista farmacellico quindi la cultura veramente conculente ok questo è solamente per dire che è un progetto abbastanza anche come vedete anche come finanziamenti terminerà nel 2017 sono coinvolti numerosi partner europei ma è anche coinvolta la Cina come in Taropeia sta molto spingendo perché si aprono sempre di più delle collaborazioni con con i risultatori cinesi e l'obiettivo generale vedete quello di sviluppare la ricerca che serve anche le tecnologie per consolidare quello che è il mercato attuale della canapa ma anche per sfingere potenziali nuove applicazioni è un progetto essenzialmente di ricerca è un progetto anche molto biotecnologico perché veniva finanziato da un amparo diciamo della ricerca di un'opera legata alle biotecnologie quindi era un'occasione anche per creare nuove varietà la canapa come sappiamo tutti i coloriti di voi sono interessati a fare la canapa sappiamo che oggi la maggior parte della varietà viene dalla francia perché la francia ha mantenuto negli anni una produzione di canapa che ha permesso di avere varietà moderne abbastanza affidabili e poi ci sono un po' anche varietà in giro per l'europa ma quelle italiane in buona sostanza sono scomparse non è più attuali non è più attuali o per esserlo possibile la loro coltivazione quindi era questo anche un modo per dare la possibilità alla canapa di avere degli strumenti moderni per l'attività di miglioramento eselentico quindi per quanto riguarda gli usi scusate una slide come dicevo a comunicare in grano italiano comunque molto brevemente la canapa è una cultura appunto multiuso che fa una cultura da vera figheria e quindi abbiamo i sedi dai quali si possono estrarre le proteine dell'olio abbiamo diversi tipi di utilizzazioni di questi composti oppure dalle foglie dalle fiorescene abbiamo le stazioni di canna di olio di essenziale che hanno diversi possibili utilizzi e poi chiaramente invece l'utilizzo principale quello dello sfero dal quale abbiamo le fibre quindi fibre lunghe fibre corte il canna colore e quant'altro gli usi tradizionali poi abbiamo diciamo riconosciamo dal punto di vista nutrizionali e anche farmaceutici o così ne ha parlato il professore Perlino per quanto riguarda se lo spero abbiamo applicazioni di tessili legate soprattutto alla corderia ma anche applicazioni legate ad esempio agli utilizzi energetici gli usi invece che possiamo definire attuali quelli che diciamo effettivamente vengono realizzati oggi nella canna agricoltura europea sono legati soprattutto all'utilizzo dei semi utilizzo drinis come vedremo per l'administrazione animale ma anche per l'administrazione umana parte dell'installazione cosmetica e poi le fibre che vengono utilizzate in diversi settori questo è molto brevemente una serie di informazioni che potete scaricare dal sito della associazione di una europea che è la canna dove fa vedere che praticamente nel 2010 sono state 26.000 tonelate di produzione di fibra e la maggior parte della ragione destinata alla produzione di cape di polpa di cellulosa perché è questa la destinazione che ha permesso la continuazione della contrazione della canna ma in france in realtà è molto ampia ma era molto più ampia ancora nel passato oggi invece si stanno espandendo diciamo le utilizzazioni come quelle soprattutto nel settore della biotilizia quindi materiali isolanti o altri soprattutto nel settore che abbiamo il bioplastico materiali compositi il cannappio di preferenza viene utilizzato invece anche come destinazione da lettiera per cavalli o per altri animali che sono le aree queste più più grosse in parte invece in questo settore che è in crescita delle costruzioni e in parte viene diciamo normalmente bruciato per la produzione di energie questo invece è la destrazione dei semi che è di prevalenza la parte azzurra qua è l'utilizzo per l'initazione animale poi c'è invece l'odio e poi di nuovo animale umana una fettina sottile rosa che non si vede quasi per la destinazione cosmetica nell'ambito dei progetti invece ci utilizziamo ci concentriamo su questi aspetti sia il seme soprattutto le fibre una parte per la destinazione non veramente come sottessile perché siamo legati alle fibre lunghe un po' tradizionale per un'applicazione di biocomposito altre invece per sempre biocomposito più tradizionale o materiali diciamo per la costruzione ho tratteggiato qua il discorso dei cannabinoidi perché stiamo sviluppando un'idea che si sta già comunque realizzando anche a livello europeo quella cioè di estrarre i cannabinoidi dagli scatti di trepiatura del seme oppure direttamente diciamo dalla parte di canna la pianta vabbè qua abbiamo dei prodotti abbastanza importante per questo bando ma in generale anche per lo sviluppo della canna fa avere bene in mente quali sono diciamo gli obiettivi target finali in termini di prodotti che l'industria poi che deve essere magari spinta oppure lei tra l'inante della filiera della canna deve avere dei prodotti di riferimento in questo caso noi abbiamo un sistema diciamo di isolamento a fiocco cioè praticamente la canna viene come cotonizzata e poi utilizzata per diciamo intercambi dei tumori oppure un sistema diciamo di usire edilizia oppure materiali compositi oppure anche applicazioni cosmetiche e poi una cosa abbastanza importante questo centrale nel ruolo della canna come bioraffineria è quello di utilizzare tutti i sottoprodotti del sistema produttivo questo è uno schema nel quale compare un po' complicato però è lo schema della bioraffineria della canna che viene sviluppato nel progetto quindi da una parte abbiamo la canna che chiamiamo disordinata cioè quella che con la sostanza viene tagliata sforciata e ballata dall'altra parte invece abbiamo anche se è molto più piccola come filiera anche con la potenzialità la canna la canna che viene ordinata che viene ordinata proprio come viene ad oggi fatto ancora con il vino quindi qui abbiamo la raccolta e queste sono tutte delle vie di estruzione meccanica della fibra dove sono le stelline ci sono degli elementi di novità da una parte abbiamo il recupero come dicevo dello scarto di impremiatura dall'altra abbiamo il recupero dei materiali dalle polveri le polveri rappresentano il 10-15% diciamo del materiale quindi di scarto del prodotto di lavorazione che ad oggi viene normalmente o scattato o usato dopo compressione però ci sono molti elementi di interesse che possono essere estratti e poi dopo il processo di video di aggombazione anche qua c'è uno scarto al quale si possono recuperare alcune molecole quindi la prima parte è già diciamo la preparazione della biomassa destinata a diverse filiere che abbiamo visto comincia con la raccolta quindi la raccolta è un aspetto già importante nella preparazione della biomassa e quindi nell'ambito del progetto seguiamo a interna di un pacchetto di lavoro proprio la meccanizzazione e la successiva trasformazione della cultura abbiamo un po' delle industrie di riferimento legate alla trasformazione della canapa in Europa e le loro vie di meccanizzazione che vengono valutate poi il dottor Pario dopo si permetterà la parte legata alla meccanizzazione come sto a divulgare su questo su questo aspetto comunque ci sono diverse diciamo tipologie o quella di mantenere diciamo di tagliare la pianta in diversi pezzi prima raccogliere sedi oppure raccogliere sedi contestualmente alla fibra questa è una prova che è stata fatta l'anno scorso semplicemente mettendo un big bag qui sotto nella fibra che raccoglie gli scarti di treppiatura e poi da questi andare a cercare di recuperare delle molecole di interesse questa è un'altra macchina che mi inseriva anche un dottor Pario ma su questa questa macchina che mi invece era stata sviluppata per mantenere parallele e le parallele gli stili e questo è un'altra principia di meccanizzazione che seguiamo nel progetto un po' una scorciatoia se vogliamo è quella di trinciare la canapa e insinarla mi dico una trincia da mais è una cosa più semplice questa è una via che è stata messa a punto da un istituto tedesco ADB che parte del progetto che poi ha un sistema di macchine che insomma si vedono quando sono qua sotto che riescono a trasformare questo materiale insinato in pannelli di fibra che non dà la possibilità di fare nient'altro perché questa via però è semplice insomma può essere l'interesse nella parte sotto niente abbiamo tutta la parte di trasformazione poi i prodotti finiti chiaramente c'è prodotti finiti le prime che otteniamo sono fibra corta il cannappolo una fibra mista un po' il sistema dei tedesi cioè che il cannappolo la fibra che non ha messo insieme e poi la fibra lunga come qualche esempio non abbiamo poco tempo però per guardare un po' qualche esempio di quello che stiamo facendo dal punto di vista invece scientifico sulla parte diciamo della pianta quindi nella comprensione di come funziona la pianta e di come in base alla conoscenza anche dei geni che regolano i diversi processi della pianta possiamo avere degli strumenti per operare poi un miglioramento genetico sulla cultura e quindi abbiamo diciamo i primi due pacchetti di lavoro del progetto che si occupano proprio di genetica quindi il primo è un approccio di genetica che viene detto al contrario per vera genetica che parte da una conoscenza di quali sono i geni che sono coinvolti in processi interessanti per diciamo le caratteristiche qualitativi della cultura quindi lavoriamo in particolare sulla vinificazione sulla presenza di endice dulose sulle presenze di pectine quindi le pectine sono quelle che vengono unite le fibre quindi nel processo che avete visto prima la fibra viene praticamente decollicata stiliata cioè bisogna separare la fibra dal caracolo questo è tanto più semplice quanto meno adesibili diciamo così sono le pectine che sono quelle sostanze che chiamano di delle fibre quindi così come la lignina ad esempio quella che in parte acquisisce le fibre in parte delle più rigide e quindi adesso i partner che hanno questa piattaforma è abbastanza complessa è abbastanza avanzata che il mio sabbio tecnologico hanno ci siamo trovato dei mutanti per geni specifici e quindi adesso li portiamo all'interno di varietà di canna ma e vediamo quale effetto che ha tipicamente in questa operazione viene fatto uno gm dico questo è un po' provocatore perché so che spesso nella questa un pochino contrapposizione o il filipo di lingua che abbiamo in Italia bianchi e neri che è indicato prima il professor Cosentino tipicamente che sostiene la canna è il porto del gm e posso rassicurare dicendo che la canna è un libro di culture che difficilmente viene ingegnerizzato se proprio è non si sedisce è difficilissimo e quindi una volta trovato da questo mutante dobbiamo fare dei microcosi per introgredire all'interno di una validata nazionale e poi dopo valuteremo questi aspetti un altro approccio più tradizionale se vogliamo è quello di abbiamo fatto una prova del 2003 che vedeva coinvolto anche Grassi c'era una prova qui in Francia e un 90 con oltre 100 124 linee per la precisione di campo che venivano soprattutto dall'Europa come vedete qui ma anche dall'est e poi qualcuno anche dalla Sina abbiamo fatto un test insomma particolare che è quello che ha portato questa varietà e stiamo cercando di misurare tutto dal punto di vista della crescita quindi tempo di emergenza la crescita la produzione quando fiorisce il diametro degli stedi la produzione quanto diciamo i cannabinoidi la composizione della cellula di l'invinia di cellulosa eccetera e poi anche la qualità e questo è particolarmente difficile anche tramite il progetto abbiamo sviluppato un sistema che riuscirà a tradizionare velocemente la qualità della fibra perché purtroppo i sistemi tradizionali e la qualità della fibra sono abbastanza leghi e complicati e quindi poco adatti diciamo alla carta di fessione delle migliaia di campioni che avevano in ambito di questo progetto vi faccio solamente un esempio per concludere per capire l'importanza di questo lavoro e anche delle potenzialità in buona sostanza prendo come esempio il momento di fioritura quindi in questo grafico sono riportati i risultati della data di fioritura dei diversi di questi 124 senotipi in questi 3 anni quindi la linea blu è rovigo poi abbiamo invece la linea rossa che sono i francesi e questa verde sopra i punti verdi che invece sono relativi al quindi già se vede che da noi le varietà fioriscono qua diciamo abbiamo delle diverse varietà qui sotto e qui invece abbiamo il tempo terreno diciamo il tempo necessario per arrivare la fioritura quindi già vediamo che ci sono delle varietà che sono fiorite praticamente immediatamente in poche settimane tra quattro settimane non sono fiorite quindi è una molto base e altre che non sono fiorite come sono queste qua tendenzialmente tutto si avvice prima in Italia rispetto ai paesi francia intermedio che è stata la più attiva perché la carpa è sensibile al tutto periodo e di conseguenza è a giorno corto quindi dove il giorno è più corto come in Italia rispetto a settimola di Stato abbiamo per esempio un parco della Latina in Finlandia le culture che non eseriscono subito invece là diventano alte quindi visto che come dicevo prima voi lo sapete le varietà che sono disponibili oggi affidate su un mercato in buona quantità buone caratteristiche sono quelle francesi france più al nord rispetto all'Italia e la conseguenza le produzioni sono più basse quindi questa per esempio l'anno scorso la finola magari tutte le tue parali di finola di questa maglietà che ha una qualità di seme fantastici semmo valentate da noi questo è il risultato in piena fioritura tre settimane dopo l'energia che fa alta 20 cm chiaramente non è assolutamente adatto ai nostri ambienti questo ma abbiamo una prova solo per far vedere che la ritardante potenzialmente diversi serotipi tanto più precoce il serotipo tanto prima fiorisce più bassa quindi la produzione che aumenta però la produzione di seme diminuisce quindi chiaro che io fiorisco più trattivamente produco più filtra ma produco meno seme quindi siccome la produzione del seme ormai il 98% della canna prodotte in Europa di esiti di esiti di esiti di esiti tutti sempre raccolgono in seme perché si è diventato indispensabile dal punto di vista finanziario per sostenere la coltivazione della canna che è più importante quindi anche qui bisogna trovare il giusto compromesso tra quello che è la produzione di filtra e la produzione di seme utilizziamo il modello un modello che abbiamo realizzato nel passato che funziona molto bene perché vedete queste sono le sfidature che abbiamo avuto piacenza anche adattando il progetto quindi tutti gli ambienti diversi e quelli erano quelli inosservati verso quelli che avevamo simulato quindi il modello ci prende questo modello sicuramente di fare un ragionamento di questo tipo questo può essere utile è rimasto come abbiamo utilizzato quest'anno per esempio qui vediamo il tempo di seme perché più ritardiamo la sedina una volta la canapa si seminava ben San Giuseppe 19 di marzo se voi seminate una varietà franzese 19 di marzo questo è quello che ottenete una sedina molto precoce se invece è passata come vedete qui l'anità di aprile c'era proprio uno shift decindro un passaggio decindro e bastano pochi giorni e la canapa invece si riesce molto più tardivamente perché qua in mezzo c'è quello che viene chiamato il fotoperiodo critico cioè il fotoperiodo sotto del quale la canapa tende a fiorire al di sopra del quale invece è rallentata quindi si sente il gioco più lungo e quindi leceta e quindi è importante conoscere questi parametri addirittura anche quello progetto sono arrivati alla fine di due slide quello che facciamo è cercare i geni che sono responsabili della fioritura e la loro particolare configurazione ci saprà dire se è tardiva o meno tardiva quella varietà quindi saremmo in grado è stato già fatto di mettere in relazione nell'ambito del modello questa informazione genetica quindi di prevedere in funzione proprio del tipo di gene della configurazione gene perché avrà queste diverse varietà prevedere quando fiorisce questo è interessante perché per dire non so se qualcuno chiede sull'Italia vuole coltivare la cannaba e potrà sapere in una certa precisione diciamo così quando questa andrà a finire oppure quanto conviene seminarla come l'ho fatto per il Dio soprattutto in queste fasi può essere un strumento abbastanza utile oppure utilizzare queste informazioni per definire un modello di pianta che vogliamo avere un po' quello che abbiamo cercato di fare con Gianpaolo quello che dice di tornare a avere delle varietà italiane che siano adatte ai nostri beni fondamentalmente è chiaro che oggi magari mi può dare benissimo una futura perché la fibra non sapevo bene ancora cosa fare se ne sento diciamo così è più facile piazzare il seme sul mancato piuttosto che la fibra quindi avere una varietà che produce molto seme va bene però è un'ottica invece completa di una pianta che appunto una pianta che si mantiene e sostenibile l'autista economico avere una che riferisce regolarmente in un certo in un certo periodo oppure combinare diverse varietà per cui diciamo la raccolta è scalata che riesca anche esistirla in campagna e quindi per concludere appunto può dire per Canapa un'ottima esemplare a cultura Montiuso e però per sviluppare di una fungeria basata sul Canapa deve ancora essere diciamo un pochino sviluppata la sua nuova di varietà quindi con queste conoscenze genetiche ma anche di agrotecnica e poi chiaramente si va alla realizzazione della tua situazione quindi in questo sicuramente il progetto Multi-Emp che inizia a visitare il sito che sappiamo che manteniamo aggiornato sta otterrando in questa attenzione per gli strumenti poi più tecnologici nell'immediato futuro per poter lavorare bene e ringrazio per l'attenzione iniziamo subito con i ringraziamenti grazie a tutti di essere qua presenti grazie soprattutto ai miei collaboratori le persone che lavorano al centro e voglio ringraziare in modo speciale il Dottor Pagagnini perché se tutte le cose che vi posso far vedere magari vi ringrazieranno anche sono anche merito suo per cui inizio a farvi vi illustro un po' in brevi estremamente semplici perché vorrei essere anche ospitali ai confronti degli ospiti per cui legare un po' dal mio tempo a chi è intervenuto e ne è venuto da tanto lontano e vi ringrazio sentitamente perché hanno contribuito proprio a far sì che questa giornata fosse interessante parto dalla cosa più banale come è stata detto anche dal professor Amaducci impieghi io li vedo due tipi di impieghi immediati e futuri per i mediati sono quelli che sono stati detti i futuri e tengo a segnalarlo purtroppo sono quelli del tessile perché sono abbastanza impegnativi da raggiungere questi impieghi la trasformazione industriale nel campo tessile richiede investimenti importanti però prima di iniziare il discorso di come utilizziamo la canapa bisogna fare purtroppo ancora adesso dopo 20 anni dall'avvio del discorso sulla canapa fare una precisazione che è ancora necessaria soprattutto in questo territorio non so il perché perché in casi in cui c'è stato qualche discuta o incidente tra le forze di controllo di polizia e la canapa non sono stati così frequenti più in Emilia o in altre regioni però voglio dire una volta per tutte che finalmente nero su bianco è stata scritta nella revisione del testo unico sugli stupefacenti 309-90 che è il valemecum per la polizia per chi deve controllare proprio in maggio scorso nel 2014 è stato rivisto fondamentalmente l'articolo 26 che dice così salvo quando stabilito nel comma 2 per quello che segue e gli è dato sul territorio nello stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella 1 e 2 e nella tabella 1 e 2 c'è la cannabis però c'è un'eccezione e l'eccezione è per la canapa coltivata esclusivamente per la protezione di fibre e altri usi industriali usi industriali vuol dire tutto quello che abbiamo detto prima diversi di cui l'articolo 27 l'articolo 27 si fa menzioni agli usi farmaceutici medici per cui ad eccezione di quella coltivata esclusivamente per fare fibre e usi industriali le altre canapa sono vietate questa è permessa perché è consentita dalla normativa dell'Unione Europea cioè non solo in Italia è consentita in tutta Europa la canapa industriale si può coltivare la distinzione è solo che questa pianta questa varietà non ha un quantitativo di D che è più pericoloso che ha il risulto dello 0,2% per cui è innova come il sicuro cittadino deve essere cosciente delle leggi dello Stato ancora di più deve essere dittore dell'ordine per cui se magari avrete in futuro l'occasione di incontrare qualcuno che non è così informato stampatevi questo articolo e glielo fate leggere e loro devono applicare la legge e voi con questa legge che attualmente è in vigore siete tranquilli non avete nessun non dovreste avere nessun temore se avete fatto le cose in regola sono delle registrazioni della varietà e quindi sono esclusivamente di varietà in un elenco pubblicato nell'elenco europeo quali sono divise per provenienza per nazioni dove sono state registrate o selezionate le varietà come vedete l'Italia ne ha 5 al momento però nel quadro in a sud e in basso stanno per entrare altre 5 per cui alla fine avremo un catalogo di una decina di varietà che non sono male se vediamo che la Francia che ha 10.000 ettari che ha continuato a cultivare canapo non ne ha tante di più l'Ungheria è abbastanza indottata noi ne abbiamo i due tipi e tutte quelle che ci sono sono state fatte dal nostro centro dal Cracin o da chi ha lavorato all'interno dell'istituto di botture industriali come si chiamava prima e sono divise in due famiglie le dioiche e le monoiche l'asso carmagnolo la CS lette campana fibrante che è una nuova introduzione e fibra nuova queste sono caratterizzate per avere la popolazione costituita da due tipi due sessi separati maschio e femmine e la distinzione la caratteristica fondamentale di queste due questi due sessi è che la pianta femminile le travedete qua all'inizio è ancora verde sta maturando il seme mentre di fianco si vede i bacchettini se che sono i maschi perché una volta che loro hanno secondato la pianta femminile muoiono si secano questo causa un problema di disomogeneità perché il 50% degli individui ha un ciclo e l'altro ne ha un altro e in una relazione industriale fondamentale è l'omogeneità del materiale perché altrimenti ci sono dei problemi di regolazione di casamenti e tutto quello che ne consegue nelle minori i monoiche invece gli individui sono tutti uguali nel senso che hanno una parte di fiori maschili e successivamente nella parte che cade si sporgono i fiori femminili per cui hanno un ciclo esattamente uniforme identico su tutta la popolazione per esempio perciò producono più seme e lo producono la barchetta il materiale i derivati in maniera più uniforme quelli tradizionali di oggi li abbiamo ereditati li abbiamo conservati li abbiamo solo aggiornati cioè la carmagnola la CS la fibra nova quelli che hanno dato lustro alla parte tessile e alla domanda fibre che l'Italia riusciva a produrre anche l'eletta campana è una varietà che abbiamo recuperato e non abbiamo fatto altro che eliminare qualche individuo che all'interno della varietà conteneva un contenuto di THC produceva un contenuto di THC leggermente superiore al limite richiesto dai devolamenti europei mentre le altre varietà sono più recenti le ha fatte il mio collega Mario Di Candero che è andato in pienso se noi andiamo a vedere l'impiego della destinazione al campo tessile industriale all'epoca i primi del novecento si arrivava davvero a una superficie di l'Italia che arrivava vicino e superava per poco 100.000 entri direi che questo è un target importante per avere la sua espressione di dire ho reintrodotto una pianta una cultura interessante per il mondo agricolo italiano almeno e come la penso io però nonostante questo noi se abbiamo voluto ripetere per una prova europea per un progetto europeo che si chiamava la romonia la produzione della campana abbiamo dovuto ad operare come si lavorava ai primi del novecento con la macerazione in acqua e questo ha portato a dei costi stimati perché poi non siamo stati pagati sulla base del peso della fibra ma è logico per il tempo impiegato per le loro azioni manuali che richiede un tipo di protezione di questo genere a un prezzo finale della fibra che è assolutamente non competitivo rispetto al prezzo mondiale della fibra però ci sono delle caratteristiche della canna che non possiamo ignorare e rinunciare secondo me tipo questa della capacità di competere con gli infestanti e data la frequenza per cui abbiamo qualche coltura ripetutile anno per anno come il mais in queste zone abbiamo dei problemi di questo genere quando la superficie del terreno non è coperta da coltura come la canna che così attiva nel soffocare gli infestanti questo è il risultato poi che si ha su una processione culturale cioè il campo di sinistra era stata coltivata l'anno prima canna per cui di destra invece mais questo è il risultato non è un trucco scenico perché c'è un albero qua che è proprio a fianco al campo lì vicino per cui è evidente che oltretutto questa coltivazione sarà molto più produttiva e richiederà cioè questa e ha richiesto sicuramente un minore impiego di riservanti di prodotti o la concimazione e viene cercato a meno il ciclo della carpa adesso è molto rapido già a fine luglio si può tagliare e questa è una una visualizzazione di come procede l'alternativa alla macerazione in acqua cioè la macerazione in terra questa striscia colorata al centro è stata messa a punto ad un istituto di ricerca tedesco sulla base della variazione del colore che avviene progressivamente dal momento del taglio fino al momento del recupero del materiale vedete che dà un'indicazione e questa è l'indicazione del progresso di come procede la macerazione e la macerazione in questo caso non è dovuta ai martelli che si formano nell'acqua sono dei funghi che attaccano e agiscono allo stesso modo sciolgono i leganti in sostanza che legano la fibra noi abbiamo già il campo liberato in quest'annata a fine settembre per cui tutte le lavorazioni successive vengono fatte con un certo margine di tempo e questa è la qualità della fibra che abbiamo ottenuto perché l'abbiamo applicata non in laboratorio ma direttamente nel centro di lavorazione esattamente nelle fabbriche l'unica che ha operato tra il 2004 e il 2007 a Ferrara e poi sono dovuto andare in Repubblica Cieca perché da noi non ce ne sono altri centri e perché questo è possibile? Perché abbiamo cambiato il tipo di varietà cioè le varietà tradizionali sono di solito di questo colore verde intenso perché hanno una quantità di sostanze soprattutto che legano le fibre molto alta sono molto robuste sono molto difficili da attaccare da permettere la liberazione delle fibre nella corteccia dove è presente la fibra che il primo prodotto ci interessa invece in questa qualità di destra c'è una caratteristica sua genetica per cui le sostanze che legano fibre sono in concentrazione inferiore e molto più rapido e facile che gli agenti esterni batteri enzimi e funghi agiscono e liberano le fibre di fatti alcuni colleghi avevano iniziato a tentare la macerazione a terra usando però le varie che avevano a disposizione e la Torino soprattutto l'università di Torino aveva fatto questa esperienza anche tenendole bagnate con irrigazioni periodiche ma non ci riuscivano perché a contatto con il terreno il materiale marcivo comacerava a altre misure invece quelle superfici che si seccava non aveva il tempo di subire lo stesso processo e rimaneva con la fibra ancora appiccicata invece con il materiale di questo tipo che deriva da una varietà ungherese composte in San Casaro e da prima gli ulandesi hanno realizzato la camano però ha un difetto questa varietà che è tanto dioica i problemi della dioica che voglio accennare di prima ma soprattutto è stata realizzata molto a nord rispetto a dove ci troviamo per cui trasferita nelle nostre realtà per il problema del fotoperiodo fiorisce precocemente per questa ragione allora abbiamo cercato di creare una varietà adatta al nostro ambiente con le stesse caratteristiche dal punto di vista di rapidità alla massolazione il processo in sintesi di come abbiamo lavorato è qua sintetizzato schematicamente abbiamo usato una varietà carbonio italiana monolica per cui adattata al nostro ambiente e la varietà a carattere colore giallo del gusto olandese e si appartiri ovviamente per mantenere la monocità solo con le piante femminili abbiamo fatto il primo incrocio e poi il cross per recuperare questo è ciò che avviene nel primo anno di incrocio il colore è molto simile a quello della pianta monolica italiana perché si dice dominante questo caratteri riesce a coprire il colore giallo però già dal primo anno un altro processo di modificazione e di selezione ha fatto sì di intravedere il recupero del carattere giallo fino ad arrivare dopo due ben grossi dicono questi processi di ricombinazione abbiamo finalmente ottenuto una varietà anche gialla monolica uniforme che dal seme che abbiamo ottenuto siamo poi arrivati alla registrazione che è stata completata due anni fa e adesso è proposta alcune aziende che sono interessate qua abbiamo un rappresentante che magari si crea qualcosa poi nella discussione finale e poi sono i loro intenti immagino possa avvantaggiarsi anche di queste caratteristiche cioè deve avere una varietà che sia rapida ma serabilità che possa anche dare oltre alla buona protezione di seme perché è una pianta che può essere usata anche per il seme che è indispensabile a sfruttare per l'una e per l'altra caratteristica la pianta di carma per cui vedremo una per riuscire a creare a sviluppare e migliorare sempre le nostre varietà dobbiamo partire però da una caratteristica e da un repertorio più ampio possibile ne abbiamo accumulato quasi 300 diversi tipi e abbiamo fatto tutti gli anni delle prove come di tutto di confronto di isolate e moltiplicate in miniera individuale questo è lo spasso per la prima volta quando ci siamo cimentati nello studio nella selezione della canapa in cui il ministero del solito è andato all'autorizzazione a operare in campo cioè in ambiente naturale anche con i materiali che avevano il PFC superiore al 0.2 per cui ecco che entrano in gioco le protezioni gli isolamenti la vigilanza tutte quelle condizioni richieste per la canapa diversa la canapa da fumare chiamiamola così la canapa con alto contenuto di PFC ma anche se lavoravamo con una varietà destinata o varietà che possono essere fondamentalmente destinate all'uso agricolo inizialmente si guardavano del materiale con un contenuto di piecaccia più alto per cui dovevamo essere in condizioni di sicurezza e finalmente dopo circa vent'anni che abbiamo iniziato siamo riusciti a vedere le piante anche quelle diciamo non regolari delle condizioni normali di campo negli anni precedenti abbiamo lavorato prevalentemente in ambiente protetto dove le piante erano più controllate in maniera singola sulle basi ambienti più ristretti di talvolta quando la pianta lo consentiva facevamo il campo all'esterno perché il contenuto comunque era di sotto dello 0,2% e per riuscire a recuperare gli individui interessanti avevamo messo a punto un qualcosa che ho copiato non è un'idea mia c'è stato fatto negli anni 20-30 l'abbiamo adattato e modernizzato e funziona questo tipo di isolamento individuale ma uno dei fattori che ci ha dato una mazza in più nel processo del miglioramento genetico è stato questo di poter fare trevertire cioè cambiare il sesso in una singola pianta femminile attraverso un trattamento con un sale d'argento con chiamiamolo un trattamento ormonale riusciamo a lavorare con un individuo solo perché se volessimo procedere con il miglioramento genetico di una varietà di oica professionale dovremmo far migliorare sia il maschio che la femminile il lavoro è doppio e talvolta non è semplice anche perché il maschio è un po' restio una volta che inizia a fiorire tende a morire invece la femminile si può anche recuperare riciclare e ribesettare quindi lavorare con un sesso femminile dentro di questo si lavora molto meglio e si riesce anche a sfruttare la doppia sessualità si è indurta artificialmente per cui si ha fatto accelerare il tempo una delle caratteristiche che poi si ha aiutato nelle ultime varietà che abbiamo introdotto è la la morfologia l'aspetto che anche visivamente si può valutare perché se noi mettiamo associato a un qualcosa che valutiamo ad occhio un qualcosa che invece dobbiamo valutare con un'analisi chimica con una cosa sofisticata dobbiamo avere quell'analisi chimica e quella cosa significata da fare magari non abbiamo il tempo per ripetere per tanti e tanti individui invece l'osservazione ad esempio del bordo liscio come potete vedere che non è una banana ma che non ha più la segretatura oppure una foglia come questa sullo spondo nero che vedete sono due fogliorini che succede strano sai che se noi andiamo a vedere questa pianta che è stata modificata in maniera con tecniche convenzionali cioè con degli incroci a questo livello cioè dopo aver fatto i cotilelli che sono sempre in tutte le varietà di questo tipo cioè una foglia unita normalmente tutte le varietà che trovate in commercio adesso hanno tre fogliorini sono tre globale come avete visto in precedenza invece questa varietà se l'ha riunita questo carattere quando viene combinato con una varietà terzionale sparisce ritorna ad essere rilobare allora se io ho associato come in questo caso la caratteristica che la pianta non c'è carabinotti non ha sostanze chimiche che in questo caso sono indesiderate io non ho obbligatoriamente la necessità di analizzarle tutte con il gas cromatologo in forma basca e che controlli se a questo livello ha la foglia simile per essere poi sicuro comunque perché devo non solo fidarmi di quello che è l'apparenza ma devo essere certo che sia così abbiamo prelevato un piccolo pezzettino della foglia e l'abbiamo introdotta in una soluzione che si colora una cosa molto banale una reazione colorimetrica se c'è il colore rosso arrazzato significa che si sta producendo questa sostanza temiche che non vogliono come il THC o come il cannabinoide che non vogliono per cui senza fare l'anasi gastro-matografica noi centinaia di campioni li facciamo in un'ora o anche meno ci vorrebbero due giorni a farlo con il gas cromatografo per cui riusciamo a fare una cosa che a occhio possiamo già scremare che talvolta succede che si combinino il polline si muove per chilometro in cui ci può essere questa confusione lo accertiamo con un test molto rapido e poi questi che sono i campioni riferiti a delle singole piante che sospettiamo si siano inquinate di sanfino e combinate con un crato che non volevamo le analizziamo al gas cromatografo per cui invece di farne centri di analisi ne facciamo cinque o sei che ciò ci permette di accelerare di molto tecniche un po' sofisticate per arrivare a modificare rapidamente le piante le usiamo e si chiamano colture in vitro oppure la polipidia cioè facciamo assumere alla pianta una sua costituzione naturale che è diploide cioè la pianta ha 20 cromosomi nel suo cervello e attraverso un trattamento con la colticina lo facciamo alla doppiata e otteniamo la pianta tetraploide 40 cromosomi e poi cosa serve intanto la pianta di coltizione è il doppio delle sue formazioni genetiche ma poi ottenendo il triploide cioè l'incrocio tra diploide e tetraploide perché diventa proprio una insomma un'operazione aritmetica da 40 otteniamo 30 cromosomi questa è un'alterazione che scombusta la pianta la rende sterile in buona parte la sterilità significa non fare semi intanto non se la rubano attraverso il seme ma poi il fatto che non produce seme produce altre cose interessanti come i metaboliti come i cannabinoidi per cui la pianta triploide che è stata usata poi in tantissime altre culture come la vietola come c'è da solo altre piante sono state sfruttate queste caratteristiche queste potenzialità qua sono solo le componenti della cannabinoidi ma per unione di queste si potrebbe agire nel senso di aumentare la dimensione diminuire la dimensione stessa aumentare il contenuto chimico togliere già le componenti perché capite che per ogni destinazione per ogni prodotto che si potrebbe andare a produrre potremmo agire su ognuna di queste parti o anche sulle composizioni stesse di come si trova la pianta in questo caso la parte fiorale il fiore rispetto alle foglie o alla barchetta nel seme c'è moltissimo da fare per i contenuti di acidi grassi essenziali come ha spiegato benissimo il professor Dappendino i contenuti delle proteine l'estraibilità la dimensione per ottenere le due piccole è fondamentale avere un seme più grande rispetto a uno più piccolo e ultimamente abbiamo verificato che anche semplicemente facendo germinare il seme si ottengono alcuni delle protezioni da parte del seme di sostanze molto importanti come le canflamine che sono molto attive nel ridurre l'infiammazione nel processo infiammatorio quindi con la semplice germinazione germognazione del seme per 4-5 giorni lo teniamo prodotto che i vegani e gli italiani quotidianamente usano ma noi potremmo allargare anche tutta la popolazione perché farebbe vivere molto meglio e molto più sani la nostra esistenza poi il discorso del cannabidiolo ci vi dista per cannabidiolo è una cosa che si è compiata l'anno scorso nell'ambito del progetto multietro e abbiamo posto attenzione anche di questa molecola analizzando tutte le 125 sessioni una finito e le abbiamo analizzate la fortuna che abbiamo avuto perlomeno ci siamo resi conto che eravamo fortunati che quelli con la sigla che si realzano tutte le varietà italiane si colgono proprio nella posizione più alta oltre il 4,4% diciamo così e il top è l'asso ma comunque poi le abbiamo analizzate ogni pallino è un individuo le abbiamo analizzate in vaso e possiamo vedere che si collocano queste sono le nostre varietà italiane che è armagnola fibra nova e tutti ci chiedono in America riceviamo decine di richieste si collocano il 3-4% di CBD c'è questa eccezione che non è una varietà ovviamente italiana e chimica però che va al 10% ma c'è una correlazione tra CBD e THC indissolubile cioè se noi abbiamo il 5% di CBD che è già un buon risultato abbiamo 0,16 e sta dentro al 0,2% ma se noi per esempio raddoppiamo con il miglioramento genetico è un tentativo l'abbiamo comunque fatto abbiamo analizzato a 180 quasi piantine allo stato giovanile e abbiamo ottenuto questa distribuzione di concentrazione del CBD noi presuniamo che se le sedendo queste incrementiamo ulteriormente ma poi dopo ci troviamo con il problema che dal 16 magari andiamo al 0,3% cosa succede? dobbiamo starla via che non ce la lasciano coltivare per cui il discorso della nuova lese e degli nuovi valori entrano in gioco soprattutto per questo discorso la distribuzione di questo carattere è normale cioè la forma delle classi di distribuzione di concentrazione dice che ci sono molti caratteri da mettere insieme per cui c'è da lavorare però chi ha avuto la possibilità di fare delle cose come ad esempio gli americani li hanno già fatti stanno avendo un salto di successo grazie di tutto grazie ancora per segnare io tratterò lo stato dell'arte della raccolta della raccolta della caspa e facendo un breve di assunto della mia presentazione vi dirò qualcosa su come veniva lavorata la raccolta nei tempi passati e sulla raccolta della fibra sia fibra corta come ci sono due linee di materializzazione per distinte fibra corta o come Magucci diceva disordinata per materiale composto oppure fibra lunga per la produzione di materiali tessere o come diceva il professor Magucci raccolta o ordinata o mastedipanaveo e poi delle macchine che si sono uscendo nel prossimo periodo di raccolta combinata di bracere qui c'è un filmato a partire ho basato la presentazione su filmati per per rendere la presentazione pesante però se non vanno siamo un po' tagliati a partire stagione di per stagione cannava è importantissima per l'economia agraria in diverse regioni e per quella generale del paese si coltiva in diverse regioni ma specialmente nelle milie romani Grazie a tutti. 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 Come vedete, in questo caso, ogni pianta rimane parallela all'altra, a differenza del sistema precedente. Ispirandosi a questo fatto, negli anni passati, insieme alla fibra nova, nell'ambito del progetto europeo, abbiamo fatto alcune esperienze di utilizzo degli impianti per la lavorazione del lino per l'estrazione della fibra sulla carpa. Gli impianti per la lavorazione del lino lavorano rotopalle di un metro e venti, esempio di un lino alto su un metro e venti, in cui tutte le cani sono parallele l'una all'altra e vengono ottenute in campo da raccolta. Poi queste andane a stelle paralleli vengono ribaltate e poi vengono imballate e poi la rotopalla viene aperta sul pianale di lavorazione e durante tutta la lavorazione la canna rimane sempre parallela l'una all'altra. Per vedere se era possibile adattare le macchine di pianta di lino, abbiamo portato con fibra nova di spagna questi pezzi di campo un metro e venti e abbiamo fatto delle prove di giro andana, di imballatura e di estrazione della fibra. Qui vedete appunto questa andana che è a palano, in cui mandati le fanno tirare utilizzando un luogo andana per il lino e poi viene imballato, utilizzando queste imballatrici, che lasciano anche un filo all'interno della balla, che si appoggia con la balla stessa, in modo che poi tirando questo filo la rotopalla si possa riaprire, la rotopalla si possa riaprire. e abbiamo messo le basi all'interno del sistema di estrazione della fibra del lino e abbiamo ottenuto, valutato, l'efficienza di estrazione delle diverse fibre. Ora qui vedete, all'interno, la rotopalla si sta entrando all'interno di un impianto di estrazione del lino in Francia. La rotopalla viene riaperta, quindi le piane sono riposizionate in maniera parallelo su questo tauro, in cui c'è la diselezione, poi, a vista la velocità, entrano all'interno di questa macchina, essendo venute al centro da una coppia, da un doppio maschio centrale, che vengono lavorate per registrare il penapolo, in modo che, alla fine, rimanga solo il filo a cavallo di questo, che poi dico, il suo palanello. e sono diverse parti, tutte in automatico, alcuni, a mano a mano, la chiamata, come il centro del mezzo distaccato, in modo che, alla fine, rimanga solamente il filo, l'unico, 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 la pianta, con cui si fa la manetta, e la manetta, entra con una parte successiva, come la pentinatura, che ha un progetto di formazione, che è subito. Quindi, la mamma ha detto, a fianco parallela, dall'altra parte, dice, sulla manetta, e poi viene stabilizzata. la mia mamma ha detto, presto. Successivamente, quindi, la cennavo deve essere epinata, periodicamente, fino ad arrivare alla formazione del tessuto e dei vestiti. L'altra linea di cui volevo parlare è questa, della combinazione fibra-seme. E' chiaro che, anche il sistema che abbiamo visto prima, separa il seme in fase di inizio, anche nel caso dell'ino, il sistema industriale che abbiamo visto prima è in grado di poterire anche il seme nella prima fase dell'impianto, ma, dappora se siete di separare quanto più possibile le frazioni direttamente in campo, per poi far prendere delle strade diverse e prodotto tenere direttamente dal campo. In questo caso vediamo una macchina polacca che, rispetto al caso della piazza, di un'impalzamento funzionale, un'allestrazione della città, dove è un sistema di misura, di impalzatura, della propria versione, di impalzatura del suono, della propria versione, della propria versione, macchina a uva un metro, questa è una modifica del sistema che vi ho presentato prima, della Influx, cioè sempre sulla class Jaguar viene montata una testata da metri tre quadri, portata a un'altezza di 3-4 metri, e quindi che scarica lateralmente, in modo che in campo si possa trovare un andare di steli tagliati in pezzi di 60 cm, lasciate al centro, sotto le ruote della macchina, e lateralmente, invece viene fatto cadere il prodotto, questo qui, se poi si ritrova qua, il prodotto derivato dal taglio dell'opera della testata da metri tre quadri. L'ultima è questa, che monta sempre lo stesso sistema di taglio di cui raccontavo prima, quindi testata camper con quel grosso rotore per il quale il taglio dello stelo, ma invece di essere montata su una trincia mais, viene montata su una metri tre quadri, sulla quale viene montata poi una testata che si collega al canale di mutazione della metri trebbia per caduta, e quindi avviene sia la trebbiatura che la formazione dell'andare dello stelo nello stesso tempo. di cui raccontavo la metri tre quadri, è sicuramente il capitato superiore decolato in altezza, ed è quello che attualmente, che è lungo per quanto io sappia, diciamo, dell'ultima evoluzione del sistema, di raccolta combinata sempre, materiale, disordinata, che è finita in olandese e ha spostato esattamente la combinazione dell'Olanda e della Romania. Infine, questa altra soluzione, la Dunagro, mi accettava prima anche il professore Amanducci, viene montata su una clax del sepio e anche in questo caso abbiamo davanti un sistema di taglio della canna, molto simile a quello che ho visto precedentemente, ma invece di avere una testata di mutazione e pianta superiormente a una stripper, ha una stripper e quindi taglia, stripper, la parte di carne, quindi segni e foglie, nel quale il suo prodotto viene scaricato, oppure su un carcolo portato sul trattore stesso. Quindi macchina, una canteristica molto avanzata, idonea per gli investimenti in termini di ettari, in una certa riavanzo. In conclusione, cosa ho dovuto cercare di trasmettere in questa insieme di immagini? due concetti. Uno, che la canna potrà essere cochevata solamente se riusciremo a valorizzare tutte le frazioni terribili dalla pianta. E quindi le frazioni, laddove possibile, è meglio utilizzare direttamente in campo per poter poi avere linee logistiche diverse, perché ogni orazione avrà problematiche di compattamento, ossicazione, stoccaggio singole della propria caratteristica. L'altro messaggio che cercavo di trasmettere è che le esperienze, sia in Italia che all'estero, sono state tantissime sulla canna, quindi c'è la possibilità di mutuare su nuova realtà un dettaglio di esperienze adattabili, come è stato fatto fino adesso. E quindi le persone che si entrano in questo argomento della caratteristica che è affascinante, prima di fare gli investimenti dovrebbero studiarsi in questo argomento. E questo è tutto quello che è stato fatto negli anni passati, perché specialmente sulla mentalizzazione c'è una marea di attività che è stata smotta. Grazie. Buongiorno a tutti. Prima di ascoltarmi dal relatore mi viene un po' da sorridere, perché non più di qualche tempo fa io ero assoluto lì in mezzo a voi e come voi avevo participato ad un incontro sulla canna, dove parlavano altre persone, ed era il primo incontro in cui si dovevamo parlare di canna. Siamo rimasti affascinati da questo primo incontro perché la canna si veniva descritta come una pianta miracolosa. perché come il maiale non si butta via niente e non si è utilizzata per fare sia fibra che ha diversi utilizzi, come abbiamo visto nelle precedenti presentazioni. Con le foglie si fanno degli estratti, dei tè, del tisano. con il caracolo si producono dei prodotti di edilizia e con i semi si fanno dell'olio, della farina e dei prodotti da fuori. Quindi una pianta miracolosa, talmente miracolosa che io e il mio amico e oggi sonso che abbiamo partecipato al suo incontro saremmo stati degli stupidi a non continuare. E così è stato. La pianta si è veniva descritta come autodiservante, non ha migliori pesticidi, migliora il terreno, non richiede molta acqua e ha un ciclo di CO2 positivo. Tutte cose vere, ma in realtà non è la pianta di miracoli. Se qualcuno, io non so quale siano le motivazioni che abbiamo spinto a venire a questo incontro, qualcuno di voi potrebbe essere semplicemente per curiosità, qualcun altro pensa o sta già utilizzando la canapa all'interno del proprio business. Noi lavoriamo con questa motivazione soltanto da tre anni, quindi siamo, se volete, gli ultimi arrivati. Ma la prima domanda sono posti, se effettivamente è la pianta di miracoli, se effettivamente ha tutte queste possibilità, non si butta via niente perché nessuno la coltiva, perché non è stata diffusa negli ultimi anni. Allora, a questa risposta, scusate, a questa domanda ci sono due tipi di risposta. Un problema che in parte è stato affrontato da dottor Grassi di tipo normativo, ovvero le leggi che negli ultimi anni sono andate, diciamo a chi è vestito, però fino a qualche anno fa, chi decidere a diventare canapa in qualche modo perdeva un rischio. Oggi questa cosa è in parte risolta. E questo è metà della cenosa, perché l'altra metà della risposta che ci veniva presentata a questo incontro è la mancanza di piante di trasformazione. ovvero la canapa non viene coltivata perché gli agricoltori che la coltivano, a chi la danno? Cosa le fanno? Perché se ci sono centri di raccolta e centri di trasformazione, uno tiene le rotoballi in campo, uno i semi gravati e non ce li faremo. e quindi abbiamo deciso di cogliere questa sfida e di trasformare la canapa in una natale industriale e quindi di creare un centro di raccolta che potesse dare modo agli agricoltori all'interno di un certo territorio di più o meno di 50 km di radio di coltivarle e avere qualcuno che li dirà sia prodotto. Noi non abbiamo terra e quindi speravamo che avremmo dovuto rivolgersi agli agricoltori, aziende zootecniche, aziende agricole e altra gente che avesse questa disponibilità. Però non potremmo rivolgersi a queste persone senza prima aver fatto un'esperienza di rega. Cosa potremmo raccontare queste persone? Non avevamo mai coltivato canapa, veniamo da un'altra esperienza che è un'esperienza di tipo meccanico e pur avendo origini, diciamo, contadine. E quindi decidiamo di fare la nostra prima esperienza. Coltiviamo tre, qui vedete una foto del primo anno, e subito scopriamo che, come hanno detto prima gli altri velatori, che varietà disponibili realmente in quantità sono delle varietà francesi, in particolare hanno prodotto alle mani. In questa diapositiva vedete la distanza che separa le man da Veneto e quindi capite molto bene anche voi che delle varietà selezionate in altra regione, con altri climi, con altri fotoperitoli, anche a buon senso, non possono essere propriamente adatte al nostro territorio. Ad ogni modo l'unica disponibile è che decidiamo di proseguire con questa varietà. Abbiamo qualche problema di semina, come vedete, queste sono le foto del primo anno di Attrica, stiamo parlando del 2013, la canapa nasce rada, crescono anche degli infestanti, perché comunque la semina viene fatta in maniera tardiva per cercare di tenere la pianta molto bassa e quindi per facilitare la raccolta del seme poi. Quando è stato il momento di andare a raccordere, anche un po' il clima ci ha aiutato, quindi alcune bombe d'acqua hanno creato anche un allentamento e quindi il nostro raccolto da piuma hanno andato letteralmente in fumo. Per fortuna non sono tre. Quindi capiamo che il problema non è solo la mancanza di impianti e trasformazioni e non è solo un problema di leggi. Manca l'esperienza, mancano i trattisti disponibili, mancano le macchine della raccolta. Prima l'intervento più a rimedio e il dottor Pari raccontava che in Europa sono state fatte diverse simulazioni, sono diverse macchine e diverse ipotesi, però io che ho girato negli tre anni in Europa, vi assicuro che nessuna di queste è realmente industrializzata, sono per lo più prototipi. Qualche delle nostre aziende, come è il Nex, piuttosto che la Lunaro, hanno investito molti soldi in molto tempo in queste tecnologie, alcuni funzionano ma funzioneranno da noi. Prima commentavo con il dottor Grassi, l'avete visto anche voi dalle foto, che le raccolte in questi paesi vengono fatte con una canapa molto verde. Quando io vado a tagliare una canapa molto verde, il taglio è facilità, pensate a me si dato di maestro. Se invece io vado a raccogliere una canapa più gialla, più secca, cosa che succede da noi, nascono tutta la serie di problemi. E poi, appunto, mancano i pianti di trattasformazione che possano raccogliere il prodotto. E non solo, mancano anche i pianti di essiccazione e i pianti di pulizia del seme adeguati, perché la maggior parte i pianti di essiccazione che noi abbiamo qui in zona sono i pianti di essiccazione, diciamo, per mais, e quindi per altri tipi di colture o per soia, e non sono andati alla canapa. La canapa è seccata a bassa temperatura, per periodi molto lunghi, ed è un seme che si comporta in maniera molto diversa. Quindi decidiamo di risolvere questi problemi, capiamo che dobbiamo strutturare, capiamo che dobbiamo fare anche gli investimenti. nasce ECOEMP, l'anno nuovo, siamo dei Pionica 14, nasce ECOEMP perché dobbiamo dare un senso al nostro progetto e anche qualche visibilità. siccome la pianta è coltivata, come avete visto, in tutto il mondo, decidiamo di dare anche un tono internazionale, per cui utilizziamo il nome della canapa in inglese, che è appunto l'acronimo ENCRE, e quindi decidiamo di proseguire questa avventura, anche se la nostra esperienza è stata, come avete visto, negativa. Decidiamo di partire da zero, e quindi partiamo da giovanità. in Europa ci sono 46 e 7 in Italia, per un totale di 50 avanti. E quindi decidiamo di, con le nostre poche risorse, di allestire un campo sperimentale, non di sicuro un campo sperimentale come quello del dottore Madduci, ma nel nostro piccolo, raccogliamo 40 genotivi, disseminiamo, con l'aiuto di un amico che è qui in sala, e iniziamo a raccogliere dei dati, quindi vogliamo capire qual è la varietà che meglio si adatta al nostro terreno. Nel frattempo piattiamo 80 ettri, vuol dire che è ben salto da 3 ettri a 80 ettri. In realtà, dai conti che abbiamo fatto, il brecchiven viene raggiunto attorno ai 300-500 ettri. Quindi, sotto questa cifra, non ha senso di parlare di un piante di piratrasformazione. Questa è ovviamente la nostra visione. Tentiamo questi 80 ettri, e la semina va bene, abbiamo implementato, abbiamo capito dove avevamo sbagliato, la pianta è una pianta robusta, quindi cresce praticamente da sola. Arriviamo alla raccolta, e iniziano i primi problemi. Perché la pianta cresce, è una pianta alta, non esistono macchine per la raccolta, a di là dei conti, che appunto ha presentato prima del dottor Parry. In Italia si utilizzano macchine tradizionali, e uno cerca di, come dire, di adattarle alle proprie necessità. Quello che abbiamo visto è che quando resta abbastanza bassa, si raccoglie il seme, quando invece cresce troppo, si sfarcia tutto e si raccoglie la pacchetta. Questo è incompatibile con un'attività di termine industriale, perché io, secondo me, utilizzare un prodotto, devo decidere prima cosa fare, non è che posso adattare la raccolta al tipo di pianta che mi trovo a settembre. Nonostante questo, con l'aiuto anche di alcune persone, in particolare di alcuni terzisti, che si sono resti disponibili a investire tempo e risorse in questo nostro progetto, siamo riusciti a raccogliere l'80% dei campi che avevamo seminato. Un 20% è andato perso per N motivazioni, tra cui la mancanza di persone che si avessero disponibili alla raccolta, qualche fattore climatico e qualche campo dove appunto era stato piantato troppo tardi, perché gli intestanti avevano verificato un po' il discorso del raccolto. Nel frattempo costruiamo dei cicatoi perché dall'anno prima avevamo capito che non ce n'erano disponibili in giro e quei pochi che c'erano erano già impegnati su altre fronti, su altre bollure. Quindi costruiamo dei cicatoi, costruiamo dei pulitori e costruiamo un prototopo per ogni piano di una trasformazione. Queste sono alcune foto degli cicatori e dei pulitori che abbiamo improntato per far fronte al problema che avevamo vissuto l'anno prima. Siamo nel 2014 e capiamo che quello che manca è la filiera, manca tutto fondamentalmente, manca l'esperienza. D'altra parte noi non l'abbiamo coltivata salvo qualche appassione altra che siamo per 50 anni. Al contrario di noi anche i posti tipo la Francia e l'Ungheria hanno sempre continuato a coltivarla, ma anche se di fatto noi abbiamo sentito diverse qualità. Capiamo che se vogliamo effettivamente ricordare la canna per portare avanti il nostro progetto non possiamo semplicemente limitarci a fare dei contratti con gli agricoltori diritti o del prodotto, ma dobbiamo anche supportarlo. Dobbiamo dargli l'assistenza, dobbiamo dargli non solo l'assistenza da quello di salvo organico, ma anche l'assistenza delle meccanizzazioni perché è pensabile che l'agricoltore che magari pianta 10-20 hectari possa avere la forza finanziaria di investire in una macchina specifica per la carpa. Perché di questo si tratta. Accogliere la carpa per le macchine tradizionali è possibile solo in determinate condizioni. e la meccanizzazione non si è sviluppata perché non si è sviluppata la cultura, quindi se vuole il tempo se la domanda si è nata, prima nuova la cammina. E quindi capiamo di investire nella filiera, quindi continuiamo con le sperimentazioni, decidiamo di costruire delle macchine perché quest'anno passeremo da 80-160 hectare. e quindi non possiamo sbagliare. Già da qualche mese abbiamo iniziato questa appunto attività per avere delle macchine specifiche per raccogliersi al semi della banchetta perché l'altra cosa di cui ci siamo accorti, diciamo, è che raccogliendo entrambe le porzioni della pianta si riesce ad avere anche un'associazione economica per l'agricoltore. diversamente è abbastanza difficile. Decidiamo di fare un centro di raccolta a Romigo che sarà attivo nei prossimi mesi perché l'area di Romigo è un'area, diciamo, interessante perché ci sono termini disponibili, ci sono termini molto termini biologici e noi per quanto riguarda il seme abbiamo deciso di puntare il seme biologico. E quindi, assieme a diversi collaboratori, tra cui appunto terzisti e altre aziende, stiamo portando avanti a questo progetto meccanizzare le operazioni più difficili, che sono quelle di raccolta, mentre per quanto riguarda la sicrazione della polizia lo abbiamo già fatto l'anno scorso, con anche ottimi risultati. e questo perché soltanto lavorando assieme pensiamo che si riesca a ottenere dei buoni risultati. Vi voglio lasciare questa immagine che richiama, se vedete un po', un cuore fatto di pezzi di meccanica perché la meccanica è la nostra esperienza, ma se non si mette passione delle cose non si mette da nessuna parte. Mio padre mi ha sempre detto di non innamorarmi del business, con la cara, ma di sicuro è molto difficile perché è una pianta veramente affascinante, però anche è vero che se non sarissimo con questa passione io non sarei qui a raccontarvi queste cose, probabilmente non pianteremo 163 quest'anno. Per cui bisogna credere, bisogna investire, non solo il tempo e il denaro, ma soprattutto essere determinati ad aggiungere gli obiettivi loro. Grazie. Innanzitutto ringrazio per questo invito e devo dire che effettivamente, avendo fatto il primo anno di Università Polonia, io sono il figlio del presidente del Vistoria di Verona, allora, e venivo ovviamente in treno e durante il periodo che arrivavamo vicino a Polonia, avevamo il momento in cui c'era il trattamento della camera per cui ci tappavamo il naso perché era una cosa terribile. Devo dire una cosa, che effettivamente in Italia ci troviamo in una situazione in cui le piante industriali veramente sono praticamente scomparse. Oltre alla canapa è scomparso il lino, io mi ricordo mio nonno che era un agricoltore della bassa Cresciana perché pensavo d'oltre andavamo, mi portava a misurare ogni settimana quanto riuscire il vino. Il vicino, scomparso il blu, il cartamo, il sesamo, tra le oreggie, il lupino, il cese da farla, il fragione dall'occhio, il sorlo, il zuccherino, e adesso ci si è messa anche la parma a ventola, perché come sapete sta passando veramente molto pregolo. Il tabacco, non so se sapete che 5-6 anni fa quello che era l'interno di tabacchi che era stato venduto praticamente a un'azienda inglese, una multinazionale inglese, quindi oggi il nostro tabacco è guidato dagli inglesi. in più c'è, per quanto riguarda altre specie industriali come la canna comune, l'anododomax, il bambù, i scantos, che sono stati utilizzati in modo particolare, tentati di utilizzare dalle leie eccetera eccetera, sono praticamente non utilizzate. Qui ci troviamo in una situazione in cui veramente diciamo la parte di specie industriali, non si fa più. La canna potrebbe essere l'inizio di un di avvio. Non dimentichiamo che l'Italia era la seconda produttrice mondiale della canna cinquant'anni fa, dopo la Russia. Oggi siamo a partire in Italia. E le cause? C'è una causa fondamentale che le plastiche hanno sostituito, per quanto riguarda la finita, in modo particolare hanno sostituito i cordani eccetera 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 eccetera, in cui prima la canna era una delle possibilità. Secondo il problema della cannabis, cioè questa droga che effettivamente, cioè l'utilizzazione di questa pianta per scopi che non erano certamente scopi di tipo a Dario, a un piccolo industriale, ma per altri copi che ognuno di noi conosce molto bene. Nonostante tutto, qui c'è una lista molto rapida di progetti che sono stati fatti, diciamo così, in questi ultimi anni. Quindi non è che non ci sia interesse da parte di chi dovrebbe guidare un po', ma non c'è praticamente l'interesse di strutture che possono portare avanti. E perché rilasciano la cannabis? Perché oltre all'utilizzazione che oggi tutti quanti pensano sono diventatamente la marijuana, no? Quindi negativa dal punto di vista, ecco che diciamo il pubblico conosce la cannappa come una cosa cattiva, mentre invece, occorre dire che, diciamo rapidissimamente perché è stata trattata molto bene dai miei predecessori, che non hanno il cannabinolo cattivo, scusate se uso questo termine, bene, ma che hanno delle possibilità di essere utilizzate per altri prodotti, come è stato appassionato per i miei predecessori, per quanto riguarda l'uso farmaceutico, per quanto riguarda l'uso alimentare. negli Stati Uniti il latte fatto con i semi di cannappa, di fatto si può fare anche in casa, basta prendere i semi sproiali evidentemente, mettere dentro l'acqua, dopodiché mettere per qualche ora nell'acqua, dopodiché mettere in un mese, in un baticone, insomma, no? poi filtrare il latte che viene fuori, cioè, diciamo, la sospensione bianca che viene fuori, ha un potere alimentare superiore a quello di buca, il latte di buca, proprio per le caratteristiche che voi avete già sentito, che si guardavano sia i lipidi, sia le proteine, sia, diciamo così, in senso generale. E vi posso dire un'altra cosa che, per esempio, io in casa mi sono fatto, ma anche io non li ho molto, va bene, con questo, e c'è la possibilità di fare anche dei formelli spermabili, cioè, c'è tutta una serie di, diciamo, di sviluppi che dovrebbero essere molto interessanti, e, a parte, l'uso falsetto che, come dico, in alcuni casi veramente ha degli effetti estremamente importanti, ancora non vengono su. Quindi, i famosi cannabigerolo, cannabidiolo, proprietà farmacologiche, è anche, anche, interessante, la colnesi. Non so se sapete, ma, in Italia c'è stato un crollo, praticamente, di quasi tutte le produzioni, tramite la colnesi. Perché? Perché le altre donne, per forza, mi stengono ancora ad essere più belle, diciamo, in condizioni migliori, va bene, e quindi sostengono anche questo tipo di attività. Poi c'è anche altre cose che, per quanto riguarda, la, diciamo, l'utilizzazione di macchine che possono, come si tratta, diciamo, semplicate in un modo molto interessante, c'è anche la possibilità di fare, eventualmente, un trattamento per la separazione delle fibre in due, tre giorni e non due o tre settimane, perché faccio la prima. E con dei risultati di fibre veramente perfette, anche per fare dei tessuti che sono, per esempio, le camicia rolle di vestire. Una delle dimostrazioni, un po', della situazione attuale è che non si sa nemmeno con precisione quali siano le produzioni, cioè quanti terreni sono continuati oggi in Italia, perché le diverse associazioni danno anche delle cifre diverse, eccetera, ma si tratta sempre di qualcosa di molto, molto modestio, un migliaio, si pensa, grossomodo, un migliaio di ente, insomma, di fronte ai centomiglia di veri, c'erano prima, immaginate, insomma, no? Ora, il discorso appunto è questo, dovrebbe fare un po' una classificazione pratica, secondo me, basata nei tipi in cui si usa la parte disegnativa, per foglie e poste, per foglie, e quindi si possono usare i tipi monoici e i dioci, e quelli in cui, siccome, da parte dei disegni, da parte di produttiva, evidentemente è molto meglio avere i tipi monoici, cioè che nella stessa pianta ha i sia i giovani maschini, sono i giovini, perché in questo caso, il 100% delle piante produrono se, mentre i giovani e i giovani maschini, ovviamente, non produrono se. E quindi, il discorso anche, per quanto riguarda le caratteristiche, la produzione di dio massa, intendendo le pacchette, dovrebbe arrivare almeno al livello, così che è stato detto dal nostro amico e collega Grassi, almeno al 100% di cui i danni intenziano i pacchetti. Il che, evidentemente, diciamo, è un limite in cui dovremmo tenere conto. Cos'è da dire? Vabbè, CAP ha un uso farmacologico, l'abbiamo visto, ha un uso cosmetico, l'abbiamo visto obiettivi futuri. Ora, qui c'è da dire una cosa, che effettivamente uno dei problemi che sta facendo qua è quello degli obiettivi futuri. Qui abbiamo visto anche nelle presentazioni del mio predecessore come si cerchi ancora di identificare le problematiche, perché essendo una sensazione praticamente di non conoscenza di diversi processi e diverse delle possibilità che ci sono, eccetera, eccetera, vedete, siete a costruire tutto. Io, dico la verità, sono nata molto colpito, molto ammirato da quell'inteliziativa del mio predecessore perché almeno anche in Italia troviamo delle persone che stanno cercando di risolvere un problema che l'istituzione non sarà grata di riterrurare i soldi. E questa è una cosa che secondo me non sta vicino all'interno, scusatemi, ma... Ora, c'è un discorso molto semplice. È evidente, secondo me, che oltre ad avere il supporto del C.R.A., con le banche di fermoplasma, con le varietà che hanno prodotto, eccetera, eccetera, che possono contribuire all'inizio della fase, noi dobbiamo metterci in testa che se non si arriva a una collaborazione tra il MIPAT, le regioni, gli agricoltori, gli operatori dei vari settori, eccetera, non andiamo da nessuna parte. Ora, uno dei problemi grossi secondo me che abbiamo è stata la decisione, ma io dico questo perché avendo una certa esperienza a livello mondiale, l'Italia è l'unico paese che ha dato l'agricoltura delle regioni. In tutti gli altri paesi del mondo l'agricoltura è dato in mano allo Stato. Ma questo è un discorso che esula, evidentemente, ma come italiano ritengo opportuno capire. Io ho un'unico che ha metà del suo poder in Umbria e metà in Toscana. Beh, mi dice che se non riesce a seguire, dovrebbe fare tre cose diverse. Perché le priorità sono state stabilite in modo diverso, eccetera. Ora, se c'è una cosa in questo mondo che è importante. Io mi sono trovato in una regione in cui ero l'unico agronomo e in un certo momento parlavano di alimentazione, eccetera, eccetera, e dico, ma guardate, ma siete convinti che noi ci troviamo oggi in una situazione in cui in Italia, se dovessimo mangiare quello che facciamo noi, avremmo nel 50% di quello che necessita. Va bene? Per latte, uova e carne avremmo nel meno del 20% con i decimi prodotti in Italia. E questi mi dissero, eh, ma insomma, noi veramente cosa possiamo comprare fuori? Beh, gli ho detto, abbiate pazienza, dico, qui credo siamo tutti cristiani. Qual è la premiera di Gesù che ci ha insegnato? Il padre nostro. Bene, l'unica cosa concreta che c'è, diciamo che non sia spirituale, è darci oggi il nostro pane quotidiano. Ebbene, io direi che anche il mello politico dovrebbero capire che dare il pane quotidiano è una cosa fondamentale. e questo lo dico con l'esperienza che ho, perché ho visto un milione di persone che vogliono di fama ancora. E questa è una cosa inaccettabile. Ora, il discorso è... Sono legato al punto che vorrei sottolineare particolarmente. Quello che mi ha preceduto ha mostrato una bellissima immagine di braccia che seguivano. E diceva, l'unione fa la forza. Ebbene, l'unione deve fare la forza, anche in questo campo. E' inutile che noi facciamo il Toscana pari in Puglio, il Canapa, il... che so, la Sardegna, Canapa, eccetera. Dobbiamo metterci insieme. E dobbiamo fare in maniera tale che ci sia un coordinamento e una pressione a livello nazionale sulla politica, sull'industria, sul commercio in maniera tale da avere una voce che possa portare avanti questo tipo di, diciamo, di sviluppo che secondo me è veramente fondamentale. Quindi dovrebbe esserci un coordinamento ufficiale e nazionale per quanto riguarda le varie iniziative che riguardano la Canapa. C'è tutta la filiera che evidentemente ha il problema di tutte le filiere, diciamo, della nostra alimentazione. Io sono animo che vengo dicendo che il Ministero dell'Agricoltura, che oggi sarà da tramite soltanto tra la decisione europea e quella delle regioni, dovrebbe essere un ministero che tratta la produzione, la trasformazione industriale dei prodotti alimentari e la commercializzazione. E' assurdo che l'agricoltore abbia da un chilo di grano, che produce circa 25, 27, 28 centesimi, con un chilo di grano, come mai con solo due passaggi, cioè il molino e il fornaio, aumenta minimo di 10 volte? E chi ci rimette sono gli agricoltori e i consumatori, perché si infilano dentro tanti altri che praticamente fanno sentire aumenti il costo di ogni cosa. Secondo me il cibo è una questione fondamentale. Guardate, tutte le rivoluzioni, quella francese, quella russa, quella cinese, che sono le più grandi nel mondo, sono venuti fuori per farlo. Questo non dovremmo mai dimenticarci. Perché quando si arriva dal fatto di rimanere da mangiare, e io posso dire una cosa, avendo avuto 13 anni quando veniva la guerra, va bene, e noi non sapevamo se stasera potevamo mangiare qualcosa. Non sapevamo allora se papà tornava alla guerra, vivo morto, non sapevamo se la casa era bombandata oppure no. Bene, era tutta una serie delle sicurezze, diciamo così, che evidentemente incidevano in un modo straordinario. anche su un ragazzino come me che avevo 13 anni quando mi trovo. Ora dico, io ho visto, sono stato in almeno centinaia di paesi diversi, va bene, nella mia vita. Ma in campagna, non nelle spiagge. E ho visto come anche i più poveri sono i più generosi. Ti offrono quel poco che, non vi dico quello che ho mangiato io, in alcuni posti, perché se no, qualcuno di voi ti diseriscono i capelli. Ho cominciato la proposta delle fante, la cosa del coccodrino, ho mangiato i lati, ho mangiato... Siamo bene, va bene, ho mangiato le ore. Insieme con dei prodotti, come dicevo, con cui effettivamente. Però, un poverazzo molto di fame, si può dire, che ti offriva quel poco che avevi, cosa facevi? Non rifiutavi? Bene, io ritengo che effettivamente, se noi non ci mettiamo in testa di riunire tutte le persone di buona volontà che sono in tutto il paese, nelle varie ragioni, e cerchiamo di mettere in piedi un qualche cosa che fuga da tramite dei confronti dei governi, dei confronti delle regioni, dei confronti della popolazione. Anche perché, purtroppo, devo dire che io ho fatto una piccola indagine tra, diciamo, gli amici che ci avevo. Quando parlavo di campa, tutti quanti hanno una... vorrei dire il 99% hanno una concezione completamente sbagliata. Cioè, la campa che la pari va a punto a capo. Ora, questo è una cosa che secondo me è intolerabile. Occorre fare una campagna in questo senso in maniera tale da far capire alla gente che non è una cosa così terribile. D'altra parte, io, diciamo, voi sovete meglio di me che tutte le medicine hanno delle contraindicazioni, quasi tutte. Evidentemente, se uno le prende troppe, poi le prende male, fanno più male che bene. Ora, è chiaro che, nel caso della Canada, avremo molti vantaggi, avremo molte possibilità a livello di produzione, a livello di promissione, a livello di utilizzazione di questi prodotti nei vari settori che abbiamo visto e quindi la possibilità di avere un qualche cosa che fa del bene al nostro Paese. Grazie. Grazie.